non funziona ma questo è il sole delle alpi secondo lei che sole è questo qui vengono signori un euro per guardare il sole un euro un euro facciamo 50 anche lui ha la lente anche lui ha la lente è il certo più importante della mia vita pronti che meraviglia